In collaborazione con Glam Vision e Ka Fakli Il caseificio di Agitu tornerà a vivere in Burundi per sostenere un'intera comunità I macchinari per la produzione di formaggio aiuteranno centinaia di famiglie L'iniziativa è stata messa in campo dall'associazione Il Melograno di Brentonico Il Trentino Cesare Maestri campione d'Europa di corsa in montagna Il campione di Bolbeno ha dominato la prova di sola salita a El Paso in Spagna Ka Fakli Il 730 che spacca